Sentimi bene Simo, quando loro arrivano, la pesiamo qua. Quando stiamo di spalle, tu, la la messo qua. Ok? Qua? Qua. Ma che stai a te? Mamma ha preso pancane? Simone, questo è il posto più su di lui c'è. Ti metti qua. Ma c'è un altro posto? Eh, dove? E' il bagno. Ah, il bagno. Così te lo hai rubito, il primo posto che mettono. Simo, metti qua, dentro da me. In centro qua. Ma che non c'entri? Qua, che c'è qua? Ti metti qua, così. Esci. Boom! Ci vogliamo la roba. La c'è, la fredda è stata andata. Ho già il doppio di te, no no. Ma prova. Dammi la botta. Ora no, dopo. Dopo lo facciamo. Dai, prova. No, ma? Simo, vabbè. Allora, lasciamo stare. Mi chiami, io dico che non si fa niente. Sti cazzi. Si vuole. Vai, vai. Vai. Mute, muti. Vai, che stai arrivando. Mute. Vai, 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 vai. Vai, vai. Zitto così. Oh, aspetta. Faccio io, letto. Vai. Vai, vai, shh. Bravissimo, così. Quando loro stanno le spalle, eh, esci, capito? Esci, 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 capito? Perché chiudi? Non ti preoccupare, tu. Stai tranquillo, no, no, tranquillo. Ma perché hai chiuso? Ti preoccupare, guarda, lo avevamo pure questa, hai visto? Eh, ah, mi raccomando, Simo. Ti preoccupare, guarda, lo avevamo pure questa.